Ci stiamo abituando molto a contenuti brevi E dove è l'apprezzativa? Contenuti brevi, ad esempio Reel su Instagram ma anche articoli, più che articoli, notizie, notizie spot che prendono il lettore velocemente, leggi quelle quattro righe e hanno un forte impatto emotivo e ci si costruisce anche programmi politici su questa brevità e efficacia Invece noi vogliamo andare anche un pochino oltre, affrontare gli argomenti un po' più in profondità quindi leggerezza sì ma comunque di contenuto che approfondisca